A Mantea riparte dei nuovi strumenti e dei nuovi linguaggi della comunicazione e lo fa con un partecipato forum promosso dall'amministrazione comunale nel campus di Temesa alla ricerca di una nuova identità. Questo è il progetto che a breve vedrà la luce, si punta sulle nuove tecnologie in una logica di più stretto rapporto tra le istituzioni e i cittadini per garantire trasparenza e accesso ai servizi essenziali. È stata la volontà di essere chiari, di dire con chiarezza quello che vogliamo fare, quello che è il nostro progetto di governo della città, quello che è il nostro tentativo di rimettere a Mantea al centro della scena, al centro della scena nel senso positivo del termine e quindi tutte le iniziative che abbiamo intrapreso per recuperare quella che è la nostra stella polare, di quello che è il nostro stile.